Musica Odissia tamponi da oggi si cambia per uscire dalla quarantena basterà un test rapido negativo anche in farmacia. Musica Maxi sequestro dei finanziari di 21,5 kg di cocaina purissima avrebbe fruttato circa 3 milioni di euro finito in carcere un albanese a Pesaro Urbino denunciati tre amministratori per bancarotta fraudolenta. Musica Sanità, tagli e reparti sotto stress, il sindaco Ricci incalza la regione così non va, detto Marche Nord si fa carico del 43% dei degenti covid di tutte le Marche. Musica Aumento dei prezzi delle materie prime, ripercussioni anche sul mercato cittadino, affluenza in calo, si cercano offerte e promozioni. La gente si lamenta, si lamenta tanto ma non è colpa nostra, è colpa del trasporto della benzina che è aumentato e tutto il resto. Musica E' ufficiale la pandemia fa rinviare alla prossima estate anche il carnevale di Fano ma si lavora per le iniziative della settimana grassa. Musica Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito cambiano le regole per uscire dall'isolamento e dalla quarantena. Da oggi è possibile anche con un tampone antigenico negativo ma a pagamento. Tutti i dettagli nel servizio di apertura. Per fronteggiare le difficoltà di tracciamento in questa fase della pandemia, da oggi nelle Marche sarà possibile diagnosticare la positività da Covid-19 o uscire dall'isolamento e dalla quarantena anche con il tampone antigenico rapido senza bisogno della conferma con quello molecolare. Lo ha annunciato su Facebook il governatore Francesco Acquaroli spiegando che le nuove disposizioni sono contenute in una circolare adottata dal Dipartimento della Salute. Questo tipo di tampone potrà essere effettuato oltre che nei drive dell'Asur anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, dalle farmacie convenzionate e dai laboratori analisi e le strutture accreditate e autorizzate. Un cambiamento che permetterà di alleggerire il super lavoro dei sanitari dell'Asur, alle prese con centinaia di cittadini in code e lunghi tempi di attesa per ottenere un appuntamento. L'assessore alla sanità Filippo Saltamartini si è impegnato molto, ci hanno riferito, per portare a termine questo percorso perché ci sono tante persone che aspettano di poter tornare a vivere o al lavoro o semplicemente per sapere se hanno contratto il virus. Dunque il tampone eseguito nei drive resta gratuito, ma se non si riceve un appuntamento in tempo utile ci si può affidare al test antigenico somministrato dai medici e dai farmacisti, ma a pagamento. Il prezzo è abbordabile, hanno evidenziato dalla Regione, e le farmacie sono capillari sul territorio. È una scelta che l'utente può adottare per accelerare i tempi. Le stesse regole valgono anche per l'uscita dalla quarantena scolastica. La Regione poi ha precisato che per i lungamente positivi e asintomatici resta comunque valida la riammissione nella collettività al ventunesimo giorno dopo il primo tampone positivo senza necessità di ulteriori test. Mentre i casi ancora sintomatici possono effettuare il tampone di controllo soltanto dopo almeno tre giorni dalla scomparsa dei sintomi. Il Tar delle Marche ha rinviato alla Corte Costituzionale il recorso operato dalle parafarmacie contro la decisione della Regione di sospendere dopo un mese dall'avvio la facoltà di eseguire i tamponi antigenici rapidi. All'interno di una pandemia mondiale e ridicola hanno commentato le parafarmacie delle Marche e le associazioni che le sostengono arrivare alla Corte Costituzionale per decidere se dei farmacisti laureati e abilitati possano fare i tamponi per rilevare i nuovi positivi al virus al di là che questi operano in strutture diverse dalle farmacie dove tra l'altro si assiste a lunghe file di persone. Una situazione che ha del grottesco hanno proseguito se valutata all'ombra dell'opposizione con cui l'Associazione dei titolari di farmacia cioè Federfarma si oppone per impedire che dei colleghi con la stessa preparazione professionale esercitano un'opera che è in favore di tutti i cittadini. In questi mesi abbiamo dato tanto per la sanità marchigiana ma purtroppo in cambio stiamo ricevendo pochissimo. Il sindaco Matteo Ricci commenta così i dati della pandemia pubblicati dai quotidiani. La nostra città ha circa l'8% dei positivi giornalieri ma Marche Nord si fa carico del 43% dei degenti covid della regione una percentuale che secondo il primo cittadino pesa inevitabilmente sulle altre attività sanitarie e mette sotto stress la struttura e come se non bastasse ridimensionano psichiatria e ci tolgono la guardia medica detto Ricci così non va. Venerdì durante la conferenza dei sindaci dell'area vasta incalzeremo la regione a concluso il sindaco e sottoporrò con forza questi temi all'assessore Salta Martini in attesa che il presidente Acquaroli venga in consiglio comunale. E a causa della grande affluenza prevista per la manifestazione Verità e Libertà che si terrà il 15 gennaio a Roma le forze dell'ordine in accordo con gli organizzatori hanno spostato l'iniziativa a Piazza San Giovanni. L'evento che ha l'obiettivo di unire il popolo in difesa dei diritti umani e della Costituzione avrà inizio alle ore 14.30. La cronaca, la guardia di finanza di Ancona ha arrestato un albanese sequestrato 21,5 kg di cocaina purissima, un quantitativo tra i più ingenti fatti negli ultimi anni nel territorio marchigiano. E' stata un'auto che procedeva a forte velocità nelle vie della città di Porto Sant'Elpidio ad attirare l'attenzione di una pattuglia dei finanzieri. Insospettiti dall'urgenza dell'uomo alla guida, gli investigatori hanno deciso di seguire il mezzo per controllarne i movimenti. Poco dopo infatti il sospettato si è fermato ed è sceso con fare nervoso e guardingo. Si è avvicinato ad un veicolo in sosta ed ha aperto il bagagliaio, poi ha prelevato velocemente un involucro ed è ripartito. Così le fiamme gialle, non escludendo nemmeno di essere in presenza di un furto, hanno subito intimato l'altra alla persona alla guida. Ma alla vista dei militari, l'uomo si è dato alla fuga percorrendo ad elevata velocità le strade della cittadina fermana e gettando un involucro dal finestrino. Dopo un inseguimento durante il quale il fuggitivo ha anche speronato la pattuglia, gli uomini della guardia di finanza di Ancona sono riusciti ad interrompere la folle corsa. Recuperata la droga lanciata, i militari hanno rinvenuto due panetti di cocaina purissima. Invece nell'auto in sosta è stata trovata una valigia contenente 18 panetti di sostanza stupefacente. In totale sono stati sottoposti a sequestro oltre 21 chili e mezzo di cocaina, un quantitativo tra i più rilevanti sequestrati negli ultimi anni nelle marche. Basti pensare che una volta immessa sul mercato la sostanza avrebbe fruttato circa 3 milioni di euro. L'uomo, un albanese residente in Italia, è stato arrestato per traffico di stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale ed è stato condotto nel carcere di Fermo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Considerati il quantitativo e la modalità di occultamento, gli inquirenti non escludono che la droga fosse destinata a piazze di spaccio diverse da quelle del comune di rinvenimento. E all'esito di complesse indagini della guardia di finanza di Pesero Urbino, sono stati denunciati tre amministratori di quattro società risultate riconducibili ad un unico gruppo familiare e operanti nel settore della fabbricazione di apparecchiature elettroniche. Le attività delle fiamme gialle, eseguite anche con un'arrogatoria internazionale con la Repubblica di San Marino, hanno consentito di far emergere gravi ipotesi di bancarotta fraudolenta, realizzate sia mediante l'occultamento delle scritture contabili, sia con la distrazione di ingenti risorse finanziarie pari a circa 2,5 milioni di euro. Inoltre sono state segnalate alla Procura di Urbino plurime ipotesi di falso nei bilanci delle società che gli amministratori avrebbero realizzato per indurre in errore i destinatari sulla reale situazione economico-patrimoniale delle imprese e portando a dissesto le quattro società che poi sono state dichiarate fallite tra il 2015 e il 2019. Per le tre persone denunciate è stato richiesto il rinvio a giudizio. Cambiamo argomento, l'aumento dei prezzi delle materie prime ha provocato ripercussioni anche sul mercato cittadino. L'affluenza e gli affari sono in calo e i clienti cercano sempre più offerte e promozioni. Da inizio anno c'è stato un aumento dei costi di tutte le materie prime, quindi ciò significa maggiori spesi che incitano sul bilancio familiare? Sì, nella pasta, nella pasta ad esempio c'è un 20 centesimi di rincaro, nella barilla faccio un nome, costava 72 centesimi e è arrivata a 95, pasta conad 35 e è arrivata a 55. E voi a livello di vendita avete notato che la gente vuole comunque risparmiare? Sì, anche noi avendo dei prezzi abbastanza abbordabili la gente si lamenta, si lamenta tanto ma non è colpa nostra, è colpa del trasporto della benzina che è aumentata e tutto il resto. Quindi avete avuto ricpercorsi? Tantissime, tantissime. A differenza di melanzane che prima a questo periodo qui andavano a 2,80 euro, 2,90 euro, sono a 3,50 euro. Ma non perché ci vogliamo guadagnare noi, perché hanno aumentato alla fonte. Da ottobre hanno incominciato ad aumentare, così andando in giro nei supermercati vedendo prezzi della roba, così proprio da ottobre adesso stanno aumentando 10, 20, 30 centesimi, anche sul burro, sul semplice burro. Che viene 1,99 euro, è già arrivato a 2,30 euro. E adesso da gennaio sono lievitati ancora? Sì, sì, sempre. Quei 10 centesimi, 7, 8, 10 centesimi li vedi. Io perché li guardo, perché mia figlia fa una dieta particolare, perciò controllo tutti i prodotti, no? Che prima comprava una cifra 1,99 euro, adesso mi ritrova 2,29 euro a comprare lo stesso prodotto. Il pane è aumentato tutta una volta a 70 centesimi. La mozzarella, riuscivamo prima a fare un prezzo molto migliore, adesso abbiamo un euro d'aumento sulla mozzarella. E le vendite, giustamente, sono scese un po', perché la gente, giustamente, non gliela fa. Però, ragazzi, cosa dire? Cerchiamo di andare avanti, perché se no, addio qui. La gente è frenata anche poi dalla situazione pandemica? Certo, la gente ha paura di uscire. Vada, proprio prima mi è arrivata una cliente che è venuta oltre, che da st'estate non usciva dalla paura. Noi qualche consegna la facciamo pure a casa per aiutarci, però la gente si vede che viene meno al mercato, sì, si vede. Tende a risparmiare molto e, logicamente, non ci arriva a fine mese. Voi avete notato meno acquisti, meno affari? Sì, sì. Anche perché la gente non gira, perciò... Lei stamattina cosa compra? Compra un po' di frutta per il mio nipotino, che lui piace tanto. Ha visto che sono aumentati i prezzi? Oddio, io di solito con la frutta e la verdura mangio poco, ci faccio caso. Magari più con la verdura, qualcosina sì, ma non eccessivo, secondo il mio parere. Quando vai a fare la spesa ultimamente i costi stanno aumentando tantissimo, tant'è che gli scontrini sono aumentati notevolmente e lo noto proprio giorno per giorno, ogni volta che vado a fare la spesa. Voi a comprare al mercato o anche nei negozi in questo periodo? Allora, guarda, al mercato no perché non ho molto tempo, però nei negozi sì, molto spesso. Profitti anche dei saldi che ci sono in questo periodo? Certo, i saldi assolutamente, anche perché molte cose senza saldi fai un po' più fatica, quindi preferisco aspettare quelli e acquistare più con i saldi. E a causa del Covid, Aset S.P.A. sta registrando un'importante riduzione del personale. Data la situazione, la società dei servizi ha deciso che tutti i centri di raccolta differenziata resteranno aperti, ma gli ingressi in quello di Fano saranno contingentati perché il personale addetto è ridotto a due persone. Inoltre, verrà ridotto parte del servizio dedicato allo spazzamento manuale o meccanizzato sul territorio fanese. È prevista poi la temporanea sospensione del CAM, il centro ambiente mobile, nei quartieri di Fano. L'attività riprenderà martedì 1 febbraio. L'aumento dei contagi fa slittare anche per quest'anno le date del Carnevale di Fano. L'ente carnevalesca, insieme ai carristi e al Comune, ha deciso di rimandare la manifestazione al mese di luglio. Servizio di Filippo Pucci. La manifestazione più dolce d'Italia dal 1347 quest'anno non si svolgerà, almeno per il momento. Stiamo parlando del Carnevale di Fano, evento più importante a livello locale e regionale, che ancora una volta non vedrà l'uscita dei carri allegorici durante il periodo invernale. Una dura scelta dovuta alla situazione attuale a causa del Covid, ha detto la Presidente Maria Flora Gianmarioli. Ma siamo già al lavoro per recuperare le date durante il periodo estivo. Devo annunciare che il Carnevale di Fano, le sfilate del Carnevale di Fano verranno rinviate a luglio, come ovviamente tutti gli altri carnevali storici con cui ovviamente siamo sempre in contatto. Ma sapete che il Carnevale di Fano dal 1347 ad oggi non si è mai fermato, non si fermerà neanche quest'anno. In base a quello che si potrà fare comunque onoreremo la settimana grassa in presenza, perché rispetto all'anno scorso che eravamo rossi e quindi non si poteva fare altro che un'edizione digitale, quest'anno qualche cosa in presenza potremmo fare. Ovviamente se sarà possibile il 31 di gennaio sapremo dal governo che cosa sarà possibile fare per quanto riguarda gli eventi. Vorremmo comunque organizzare qualche cosa per i bambini in piazza durante la settimana grassa. durante il Giovedì Grasso e se ovviamente sempre si potrà il Grande Rugo del Pupo Martedì Grasso. Non si sa se sarà un'edizione simile a quella dello scorso anno o un'edizione rivista, ma nei prossimi giorni è in programma un ulteriore confronto per capire come organizzare la manifestazione senza tralasciare gli aspetti fondamentali, ovvero i cari allegorici, le sfilate e l'animazione. Ci vedremo a stretto giro con l'amministrazione, con i maestri carristi e tutti coloro che operano intorno al Carnevale per ovviamente decidere il programma per luglio e per la settimana grassa logicamente. L'amministrazione comunale di San Costanzo fa sapere che dalla seconda metà di gennaio verranno erogati i contributi per far affronte al pagamento delle bollette, alle famiglie in difficoltà economica che hanno partecipato al bando natalizio. Gli importi verranno erogati per una somma massima di 400 euro a nucleo familiare e faranno riferimento alla conformità della documentazione presentata. Questa operazione permetterà di sostenere 29 famiglie su 32 domande. L'operazione prevede la distribuzione di fondi per oltre 11.000 euro e la somma più significativa proviene dalle donazioni liberali dei cittadini, delle associazioni del territorio e poi della fondazione di comunità Fano Famiglia Cesano. Con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Tra poco trasmetteremo il bilancio di fine anno della CNA di Pesero Rubino. Buona serata a tutti voi e arrivederci a domani. Grazie.